Coraggioso perché anche lui si era rotto le scatole perché in una settimana due volte dice assicurazione che sia ma basta. Nelle mire di una bandito è finita nuovamente la farmacia della Cervo di Via Alfieri. Ci troviamo alle porte del centro Aretino solamente una settimana fa una rapina a mano armata i danni di questa farmacia e questa mattina un nuovo tentativo che si è concluso però con un arresto grazie all'intervento di un farmacista coraggioso. Era lo scorso 27 marzo infatti quando un malvivente a volto travisato ed armato di coltello si era presentato al bancone aveva minacciato le due farmaciste e si era fatto consegnare 200 euro poi si era dato alla fuga con il magro bottino ma lasciandosi alle spalle non poca paura questa mattina un nuovo assalto attorno alle 10.30 un uomo con un casco e degli occhiali da sole utilizzati per celare la sua identità ha fatto irruzione nel locale per la rapina anche in questo caso con in mano un coltello si era consegnare i soldi, c'erano quelle ragazze solite alla cassa, gentili questo sembrava intimorito, sudato, non so se era qualche sostanza o qualcosa sicuramente poi è arrivato il farmacista, non l'ho visto, dice che l'ha bloccato lui nel giro di due minuti neanche è arrivata la polizia e hanno portato via hanno fatto velocemente a chiamare le forze dell'ordine le altre farmaciste presenti ha così finito in manette un 45enne a retino con numerosi precedenti alle spalle per furto e spaccio di sostanze stupefacenti dietro le due rapine dunque potrebbe celarsi la stessa mano le indagini sono portate avanti dalla polizia di Stato grazie